Allarme e rifiuti a Palermo nella notte ancora roghi appiccati nei pressi dei cassonetti stracolmi. Cominciano oggi in Sicilia i saldi invernali, il primo grande appuntamento commerciale dell'anno. Il 2019 è stato accolto a Palermo con i concerti di Capodanno, al Teatro Massimo e dal Politiama Garibaldi. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di mercoledì 2 gennaio. Come avete ascoltato nei titoli è Allarme e rifiuti a Palermo. Ancora roghi appiccati nei cassonetti stracolmi, emergenza soprattutto nelle zone periferiche della città. Non cessa l'allarme e rifiuti a Palermo. Si registrano ancora problemi soprattutto nelle periferie del capoluogo siciliano. Negli ultimi giorni del 2018 per far rientrare l'emergenza dei rifiuti accatastati per strada sono entrate in azione anche le pale meccaniche. Altra nottata di roghi appiccati alle discariche nei pressi dei cassonetti stracolmi. Anche questa notte i vigili del fuoco hanno lavorato in giro per la città per spegnere i cumuli di rifiuti ai cassonetti dati alle fiamme. Diverse le zone segnalate al comando provinciale. Le squadre dei pompieri sono intervenute nella zona dei cantieri navali di Palermo. Nella notte di Capodanno erano stati spenti incendi nella zona dell'ospedale civico in via la Scaris. Ieri sera e nella notte eroghi in via dell'Arsenale in via Simone Guli. Ancora nei pressi dell'ospedale policlinico in via Oreto. In via Paruta nella zona di Corso Cadata Fimi vi sono grandi cumuli di spazzatura. Al villaggio Santa Rosalia ci sono diverse discariche dove la spazzatura non viene raccolta da prima di Natale. Intanto rimane l'incognita degli stipendi dei operai RAP. Il personale ha ricevuto solo a fine dicembre la tredicesima, arrivata dopo lunghe polemiche. La speranza è che gli stipendi possano essere accreditati entro la fine della settimana. E nonostante tutto negli ultimi giorni c'è stata un'adesione straordinaria del 70% nel turno antimeridiano e del 100% per il notturno. Cambiamo argomento. Cominciano oggi in Sicilia i saldi invernali, il primo grande appuntamento commerciale dell'anno. In Sicilia la spesa pro capite è stimata tra i 110 e i 125 euro. Nel resto d'Italia le vendite di fine stagione partiranno il prossimo sabato. La Sicilia anticipa i saldi invernali che partono oggi. Nel resto d'Italia il via alla scontistica partirà sabato 5 gennaio alla vigilia dell'Epifania. Per il segretario nazionale dell'Associazione dei consumatori, Francesco Tanasi, non basteranno risollevare le sorti del commercio. Gli acquisti durante il periodo di sconti, sostiene, faranno registrare in Sicilia anche e nel 2019 una pesante flessione pari a circa il 9% su anno. Nella nostra regione è prevista una spesa pro capite compresa tra i 110 e i 125 euro. Per le famiglie invece la spesa media ruoterà attorno ai 230 e 260 euro. Nel resto del Paese si stima 140 euro di spesa pro capite e 325 euro a famiglia. Almeno un prodotto su tre verrà comprato online. Per Confcommercio Palermo invece la spesa media pro capite sarà sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. Prevediamo, dice la Presidente Patrizia Riddio, una sostanziale tenuta di spesa dello scorso anno, nonostante il clima di fiducia sia peggiorato e si avverte la debolezza della domanda delle famiglie. Le incertezze sulle prospettive economiche e i disegnali di rallentamento del mercato del lavoro stanno determinando, ormai da mesi, comportamenti molto prudenti in materia di scelte di consumo. Nel complesso il fragile profilo dei consumi colpirà anche gli sconti a causa di una stagione commerciale non positiva. Le vendite di questi prossimi giorni, aggiunge, sono essenziali per cercare di chiudere una stagione commerciale non positiva. Ci aspettiamo che i consumatori approfitteranno anche quest'anno delle vendite a saldo, anche per comprare a costi vantaggiosi. Ipotizzare stime sul giro di affari dei saldi invernali non è semplice, spiega Lillo Vizzini, presidente di Feder Consumatori Palermo. I dati sono stravolti dall'avvento del Black Friday e dal fatto che già dalla fine di novembre i negozi hanno applicato sconti con percentuali alte. Fondi dell'Unione Europea. La Sicilia è promossa anche su spesa sociale, agricoltura e pesca. Un risultato ottimo, evidenzia il governatore Nello Musumeci, visto il livello bassissimo utilizzato dalle risorse su alcuni programmi. Traguardo raggiunto e superato di oltre 21,3 milioni di euro. La regione siciliana è riuscita a passare l'esame con Bruxelles anche per le risorse comunitarie assegnate all'isola dall'Unione Europea per il periodo 2014-2020 relative al Fondo Sociale Europeo, l'FSE, che si occupa di istruzione e formazione professionale. Il target di spesa fissata a fine 2018 era di 96,7 milioni di euro. Si partiva a dicembre del 2017 da 32,9 milioni di euro. Il dato definitivo è più che positivo, vista una certificazione finale di 118 milioni di euro, quindi con una spesa nell'anno appena trascorsa di oltre 85 milioni. Come è noto anche nel FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, con il quale vengono finanziate infrastrutture e concesse aiuti alle imprese, il governo musumeci è stato promosso con una spesa complessiva di 719 milioni di euro, dato finale al 31 dicembre, maggiore di oltre 44 milioni di euro rispetto al limite minimo imposto di 674,6 milioni di euro. Un risultato esperato, visto che alla fine del 2017, a tre anni dall'avvio della programmazione, erano stati certificati appena 6,3 milioni di euro. Una corsa contro il tempo, quindi quella che il governo regionale, insediatosi nel dicembre 2017, ha dovuto farne gli ultimi 12 mesi. Un risultato ottimo, evidenzia il governatore nell'omusumeci, visto il livello bassissimo di utilizzo delle risorse su alcuni programmi in quel momento. Un obiettivo reso possibile da un grande lavoro di squadra politica e burocratico e da una sinergica collaborazione istituzionale con il Ministero per il Sud. Buone notizie anche dal programma di sviluppo rurale, destinato alle aziende agricole, con un superamento di oltre 185 milioni di euro rispetto al traguardo di 377 milioni imposto da Bruxelles. La spesa raggiunta è infatti di 562,3 milioni di euro. Anche nel FEAMP, il Fondo Europeo per gli Affari Marittime e la Pesca, abbiamente ha raggiunto il target fissato a livello centrale, trattandosi di un programma nazionale con 7,9 milioni di euro certificati. A chiudere in positivo anche il programma trasfrontaliero Italia-Malta, del quale la Sicilia è autorità di gestione. L'obiettivo imposto da Bruxelles appena la restituzione delle somme era di 945 mila euro, spesa raggiunta di un milione e mezzo di euro. Si rinnova la tradizione nel segno della solidarietà durante le festività. Anche quest'anno, nella sede degli Angeli della Notte, l'associazione di volontariato che si occupa di senza tetto e famiglie disagiate, una ricca tavola imbaddita, ha donato un sorriso a tanti uomini e donne che stanno attraversando un periodo di vita difficile. Noi come associazione cerchiamo di regalare non solo un sorriso, ma anche delle giornate di affetto, di calore familiare a queste persone che solitamente non hanno nulla, nemmeno una famiglia con cui passare le feste. Organizziamo questi pranzi la domenica, dei pranzi speciali, in cui cerchiamo di regalare non solo una giornata festiva, ma anche delle pietanze ricche da offrire per gioire un po' tutti insieme anche di queste feste. Perché è proprio nei giorni di festa che ci si sente più soli. Sì, assolutamente sì, purtroppo ci si sente più soli nei giorni di feste. Il Natale accentua anche alla solitudine e questo è risaputo. E noi cerchiamo appunto durante queste feste di stare loro molto più vicino, rispetto sì anche agli altri giorni. Un periodo drammatico per i clociare a Palermo. Si sono verificati tanti episodi tristi, criminali. Ma cosa sta succedendo in città? Purtroppo non riusciamo a capire nemmeno noi. La solidarietà esiste a Palermo, io su questo non ho dubbi, perché lo noto ogni giorno, aiutano noi come noi aiutiamo poi i clociare. Però purtroppo c'è anche, non lo so, un po' di aggressività represso. I giovani non riescono a capire che bisogna invece avere solidarietà verso queste persone più deboli. Li attaccano, non lo saprei dire perché. Purtroppo questa cattiveria non riesco a spiegarmela. Oggi cosa offrirete ai vostri ospiti? Offriremo un pranzo molto ricco. Inizieremo da salmone fumicato, faremo dei ralloncini di pollo ripieni, faremo dei tramezzini ripieni di mozzarella, prosciutto e tante altre cose. avremo panettoni, pandoro, molti dolci. Un pranzo veramente ricco. Si arriva per necessità, giustamente. Per, diciamo, una sfortuna nelle cose. Io ho tentato di lavorare, ma a volte la gente mi ha sfruttato del lavoro. Quindi devo ringraziare una persona che mi offre un magazzino dove dormire. ma tentando, tentando. Poi in questa, oggi come oggi, vogliono troppo lavoro e sfruttamento. Quindi devo ringraziare gli angeli della notte che li conosco da cinque anni. Sì, oltre a darti un, come dire, un aiuto morale, ti danno anche queste belle opportunità. Sono solo e per me stare in compagnia è una cosa buona, abbastanza buona. Cosa manca di più durante questi giorni? Eh, mi manca la mia famiglia che sono deceduti, i miei genitori, un fratello, mi è morto. Poi sono pure separato, vivo da solo. Grazie a Dio ho una casa, non vivo mezza la strada, ho una casa, ho una piccola pensione di invalidità, ma non riesco ad andare avanti. Con questa piccola pensione sono 278 euro, non riesco neanche a pagare la porta della luce, l'acqua e alcune cose. E vengo, ho bisogno di cenare, di pranzare in questi posti. Se no, posso stare a digiuno perché nessuno mi aiuta. Ma cosa porta a lasciare i fornelli di casa per dedicarsi ai fornelli di questa cucina particolare? Una risposta da parte mia all'amore di Dio per il prossimo. E da tanto che lei fa la volontaria? Da circa tre mesi. In questi tre mesi cos'è cambiato nella sua vita? È cambiato il rapporto, la tolleranza per chi è diverso. Bilancio positivo di un anno particolarmente intenso per la Proloco Nissena, sempre più impegnata nella promozione del territorio in contesti più ampi e con eventi di respiro nazionale. L'ultimo in ordine di tempo è quello che vede Caltanissetta, protagonista a Fico Italy di Bologna. Il parco tematico dedicato al cibo più grande del mondo. Un anno soddisfacente che ci ha visto protagonista anche in occasioni molto importanti e anche su scala nazionale. Al di là degli eventi che come sempre abbiamo curato all'interno di Palazzo Moncato con il punto informativo della Proloco, ci abbiamo anche portato fuori, esportato il nome di Caltanissetta. In particolar modo siamo andati al BIT di Milano dove abbiamo partecipato anche nello stand della regione Sicilia a esportare i nostri monumenti e i nostri prodotti gastronomici. Le attività più significative sicuramente sono state quelle della nostra esperienza alla fabbrica italiana contadina di Bologna dove siamo andati a esportare il Rollo come ambasciatore della nostra città. Da tanta colla attorno al nostro show cooking tutti hanno assaggiato il Rollo, ma anche il Sorrone, la famosa cubaita siciliana. È stato veramente molto bello vedere che su tutti gli schermi di Fico è stato proiettato un filmato di Caltanissetta che parlava della nostra città e in tutto devo ringraziare la società uno a uno e tantissimi, tantissimi cittadini che si sono volontariamente affiancati alla Proloco e imprenditori della città per dare una mano. Mi riferisco alla vita Ad Maiora che ci ha consentito di portare pasticcere e cuochi a Fico ma anche a gestori di accoglienza di B&B come Beatrice Giammusso, Villa Fiocchi e Lucia Cosentino che attraverso l'ospitalità dei vincitori del concorso sta a seguirne che noi abbiamo portato avanti tutto l'anno e ci serve come mezzo per portare in giro per l'Italia il nome di Caltanissetta e io li ringrazio per questo valore che hanno dato alla loro attività che ha un suo valore anche economico in centinaia e migliaia di euro ma è motivo di soddisfazione avere rilevato che c'è un trend molto positivo per la nostra città di presenza turistica a Caltanissetta e lo verificiamo giornalmente attraverso il nostro punto informativo grazie ai ragazzi del servizio civile che sono di grande aiuto e che si mettono a servizio di Caltanissetta per dare le giuste informazioni per fare la giusta accoglienza abbiamo anche fatto richiesta all'assessorato regionale di inserire alcuni eventi nel calendario regionale che pubblicizzerà la regione siciliana avevamo proposto la settimana santa ovviamente la regione ha accettato anche la nostra proposta non so se altri lo hanno fatto ma è motivo di soddisfazione vedere che le nostre proposte sono state accettate abbiamo contribuito anche a fare questo a D'Altavilla Milicia la magia del presepe vivente ricco di storia e tradizioni chi siete? da dove venite? il presepe vivente che stiamo per ammirare è forse la più antica tradizione da questo punto di vista per alcuni di D'Altavilla ma quest'anno il calendario è stato molto ricco accennavi ai mercadini di Natale sono stati bellissimi frequentati con eccellenza enogastronomica del territorio un commovente devo dire emozionante presepe realizzato dai bambini della scuola dell'infanzia e dalle loro insegnanti che ha davvero emozionato tutti quanti i visitatori e poi questo che ha un grande valore storico artistico culturale ma che comunque fondamentalmente come tutti i presepi poi trova le sue radici nella fede nella devozione nel rendere onore alla festa di Natale anche dal punto di vista religioso D'Altavilla sta cambiando velocemente sta recuperando in realtà quella dimensione di serenità di fiducia e ottimismo che l'ha caratterizzata negli anni e che poi insomma ha avuto qualche momento sì qualche ombra che ci siamo già dimenticati comunque e poi il Natale fondamentalmente è questo mettere insieme la religiosità con la festa anche un po' più profana la gioia dei bambini io devo dire mi sono emozionato nel vedere tante famiglie con bambini a bocca spalancata di fronte alla Natività questo significa che veramente recuperiamo quel valore poi della famiglia che è il valore più bello del Natale e d'altra parte una comunità non è altro che una famiglia di famiglia una famiglia un po' più grande i visitatori sono rimasti contenti abbastanza i bambini che invece i bambini sono entusiasmi di quello che vedono perché è una cosa nuova questa i visitatori sono arrivati in questi giorni ma la prima giornata un 800 ogni anno è un'esperienza molto nuova perché si conosca a parte conoscere nuove persone si ripetono tutti i misteri di quell'epoca una bella esperienza una cosa nuova che invito a tutti a partecipare a provare questa cosa in particolare perché è una bella cosa è sempre bello tenere alle proprie tradizioni del paese qualcosa di emozionante trasmetterlo anche ai più piccoli quindi far capire i bambini più piccoli i vecchi mestieri e per non far perdere soprattutto quelli che sono i valori di una volta perché altrimenti se si perdono si perdono un po' le nostre radici noi siamo un gruppo di comitati di San Giuseppe di Artavilla Midice che da diversi anni questa è la nuova edizione tramite tutti i collaboratori partendo dal presidente al vicepresidente a me stesse e a altre persone costruiamo questo paesepe un ringraziamento particolare va sia al comune per il contributo e anche particolarmente alle sorelle e figlie della Croce che questo è già il secondo anno che si ospitano gratuitamente che danno tutto alla sua massima collaborazione per realizzare il presepe e anche devo ringraziare a nome del presidente che l'ho qua accanto a tutto il personale che gratuitamente lavora si presta ad erice atmosfera magica complice la neve per i visitatori che tra presepi mercati natalizi e musica visiteranno la cittadina che domina Trapani tanti gli appuntamenti fino al 6 gennaio giorno in cui si dirà arrivederci alle festività natalizie un capodanno magico ad erice complice la prima nevicata dell'anno ha regalato a migliaia di visitatori un'atmosfera unica già poco prima di mezzanotte ha cominciato a fioccare sulle note del gruppo Improvisation Band la nevicata è continuata in modo più intenso ma non ha impedito il consueto scambio di auguri tra chi aveva scelto di trascorrere l'ultima notte dell'anno in piazza interrotta però l'esibizione musicale gli appuntamenti nella suggestiva cittadina non si fermano e continuano tra presepi e mercatini di Natale aperti dalle 11 alle 20 stasera alle 18 al teatro Jebel Hamed una festa del sax per dare il benvenuto al nuovo anno la magia del sassofono con il Sax Solum Assemble l'evento è organizzato in collaborazione con il conservatorio scontrino di Trapani l'assemble diretta dal maestro Antonino Peri è formata da Giorgia Grutta Clara Galvano e Marco Catarina al sax soprano Tommaso Ippolito Pietro Vitellaro Filippo Arato Rita Bianco Brigitta Militello al sax contralto Vito Lapaia Agostino Piacentino Mattia Melodia al sax tenore Tommaso Miranda Michele Calamela al sax baritono Sandro Caracappa alle percussioni si tratta di giovani sassofonisti che hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti in concorsi e masterclass con docenti di fama internazionale affidato al timbro giovane e versati e del sassofono nei suoi vari registri l'inedito itinerario lungo tre secoli di musica europea e non solo prende avvio da Carl Jenkson per giungere a Mozart Ravel Sostakovich e Piazzolla l'assemble di sassofoni Sax Solum nasce nella primavera del 2011 per volontà del maestro Antonino Peri docente della classe di sassofono presso il conservatorio scontrino di Trapani la maggior parte dei musicisti dell'assemble hanno esperienze in formazioni cameristiche hanno partecipato a varie masterclass con docenti di fama internazionale è un'orchestra formata da giovani sassofonisti già diplomati e studenti al conservatorio uniti dalla passione per la musica e per il sassofono il Sax Solum Assemble utilizza tutti i tipi di sassofono e il repartorio comprende brani sia originali che trascrizioni il 2019 è stato accolto a Palermo con i concerti di Capodanno al Teatro Massimo e dal Politeama Garibaldi grande il successo di pubblico Sold Out grande successo con tre bis a fine programma ieri nella sala grande del Teatro Massimo di Palermo per il concerto di Capodanno con l'orchestra e il coro del Teatro Massimo diretti al direttore russo Valentin Uriupin maestro del coro Piero Monti il concerto realizzato in collaborazione con la presidenza del Consiglio Comunale di Palermo ha visto la grande sala Sold Out già poche ore dopo che i biglietti erano stati messi in vendita e grandissima affluenza di pubblico in Piazza Verdi dove a migliaia palermitani e turisti si sono radunati per seguire il concerto pomeridiano danzando sulle note di Johann Strauss e Tchaikovsky numerosi anche quanti hanno seguito sempre su Maxi Schermo il concerto della mattina con la Massimo Kids Orchestra il coro di Voci Bianche il coro Arcobaleno e la cantoria del Teatro Massimo per il presidente della fondazione Teatro Massimo Leolu Corlando il teatro apre il nuovo anno e non poteva essere altrimenti confermando il proprio ruolo centrale non solo per la cultura ma anche soprattutto per il legame fra il mondo e la cultura è quello della solidarietà a Palermo un teatro che è sempre più diffuso nella città e coinvolge i cittadini e i quartieri a cui cittadini e i quartieri è fortemente legato con questi due concerti sottolinea il sovrintendente Francesco Giambrone il Teatro Massimo intensifica il suo impegno nel segno della solidarietà come già da diversi anni le stelle che decorano nel periodo delle feste di fine d'anno la scalinata d'ingresso sono quelle dell'Aile una parte del ricavato del concerto pomeridiano sarà devoluto in beneficenza per il concerto del mattino affidato alle nostre formazioni kids abbiamo voluto invitare un centinaio di bambini provenienti da quartieri in cui il Teatro Massimo ha iniziato negli anni scorsi un percorso di attività da Danisigni dove abbiamo realizzato l'elisir di Danisigni con la regia di Fabio Kerstic che sarà anche il regista della Turandò con cui apriremo la stagione 2019 dallo Zen dove la marching band della Kids Orchestra si era recata quest'anno per un concerto da Brancaccio dove avevamo portato la musica di Piano City e dove si trova uno dei cuori del nostro teatro i laboratori che realizzano le scene delle opere concerto di Capodanno anche al Politeama Garibaldi dedicato alla musica della Belle Epoque di tradizione austro-ungarica lungo il Danubio che unisce Vienna Budapest e che ha portato il record di incassi con oltre 30.000 euro l'Orchestra Sinfonica Siciliana è stata diretta da Gabor Tagas Nagy con la partecipazione vocale del soprano ungherese Polina Pastire Zach Walzer e Polke con aria di operetta celebri per un brindisi al Capodanno 2019 frizzante come lo champagne oltre al celeberrimo suo bel Danubio Blu Walzer opera 314 c'è stata l'immancabile Marcia di Radeschi di Johann Strauss padre che ha chiuso il concerto ed è stata abbissata su richiesta del pubblico grazie ragazzi grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.